Il 2018 sarà l'anno di concreto avvio sul territorio cannavesano e delle Valle di Lanzo del progetto europeo Graies Lab, che si concluderà nel 2022. Porterà sul territorio trasfrontaliero di Piemonte, Valle d'Aosta e Francia la somma di circa 8 milioni di euro per sviluppare azioni comune collegate ai temi dell'innovazione, del turismo, della mobilità sostenibile e dei servizi sociali. A Cornier, negli spazi della ex-manifattura accolti dal sindaco Beppe Pezzetto, i partner protagonisti di questo Peter si sono ritrovati per illustrare al territorio, agli amministratori locali, agli stakeholder, lo stato di avanzamento lavori di questa progettazione partecipata. Un confronto interessante e ricco di spunti. La città metropolitana di Torino, capofilia del progetto, attraverso le parole della consigliera delegata Anna Merlin, ha condiviso l'impegno ed i positivi risultati di squadra. La progettazione vede i protagonisti la Camera di Commercio, la Col di Retti di Torino, il Gal del Canavese, il Gal delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, l'Unione dei Comuni Valdostani del Gran Paradiso ed altri quattro partner francesi del territorio della Savoia. Dall'assessore regionale alla programmazione europea Alberto Valmaggia, intervenuto all'incontro di Curnier, sono venute parole di soddisfazione per il lavoro svolto fin qui, significativo per l'approccio dal basso e il coinvolgimento di numerosi giovani. L'obiettivo strategico, il fil rouge del Peter Gries Lab, sarà quello di rendere attrattivo il territorio trasfrontaliero, contribuendo a renderlo più accogliente per chi già lo vive, ma soprattutto per chi deciderà di insediarsi ed avviare imprese locali. Per questo la mobilità e l'offerta di servizi sociali saranno parte fondante del progetto, centrato però sull'innovazione, in particolare in campo turistico. L'obiettivo del nostro progetto, al quale stiamo lavorando da due anni, è quello di promuovere una fruizione turistica sostenibile del patrimonio naturale e culturale del territorio trasfrontaliero interessato. Il nostro progetto prevede la creazione di sistemi e strumenti di fruizione innovativi e per tutti. L'iniziativa prevede inoltre attività dedicate ad operatori privati per la gestione e la promo commercializzazione online. Quando diciamo per tutti, vuol dire per tutti, quindi sostenibilità e accessibilità sono le parole chiave del nostro progetto.